Oggi lascio la parola ad uno studioso illustre, l'economista americano Arthur Laffer, che fu l'ispiratore delle politiche economiche di Reagan. Ronald Reagan, lo sapete, è stato uno dei più grandi presidenti della storia degli Stati Uniti, perché oltre ad aver sconfitto il comunismo sovietico e quindi liberato l'umanità da uno dei peggiori incubi del XX secolo, ha dato un impulso straordinario all'economia degli Stati Uniti. L'Italia, leggo, sarebbe il luogo ideale per una flat tax, meno aliquote fino ad arrivare ad una sola aliquota, ragionevolmente più bassa. È la ricetta sicura per lo sviluppo. E questa è esattamente la proposta di Forza Italia. L'economista americano ha spiegato che vanno previste, sono ancora le sue parole, alcune deduzioni e agevolazioni per i meno abbienti e, ovviamente, una lotta senza quartiere contro l'evasione, come abbiamo fatto in America. E anche questo è nel nostro programma. Seguendo questa politica, negli otto anni di Reagan, dice ancora Laffer, le entrate fiscali in America sono raddoppiate da 517 a 1.032 miliardi di dollari. L'inflazione è scesa dall'11,8 al 4,7, il reddito pro capite è cresciuto nel 16,8%. E devo dirvi che la flat tax per noi non è una novità. È la ricetta che dal 1994 Antonio Martino ed io avevamo studiato per l'Italia. Come avevamo fatto? Avevamo guardato i risultati nei 57 paesi che l'hanno appiccata. Una ricetta che fa bene a tutti i cittadini che pagano meno tasse, fa bene alle imprese che hanno più utili e più risorse, fa bene all'occupazione che cresce, fa bene al reddito pro capite che aumenta, fa bene anche ai conti dello Stato che migliorano. Ma i signori della sinistra, lasciatemelo dire che sanno molto poco di economia, dicono che la flat tax costa troppo e aiuta soltanto i ricchi. Come avete visto, la verità è l'opposto. La flat tax non costa nulla allo Stato perché aumentano le sue entrate e aiuta i più deboli, aiuta i ceti medi. Ecco, se volete che questa riforma fiscale diventi realtà, se volete meno tasse e più sviluppo, sapete bene cosa dovete fare. Il 25 settembre dovete ad ogni costo andare a votare e votare per noi, per Forza Italia.